Ciao a tutti i supereroi, allora siamo su Skyblock di nuovo e come vedete ci sono dei cambiamenti nella mia isola e anche in quella di Geak, piccoli perché io merdo a Skyblock e c'è anche, come si è sentito, indovinate un po' Geak, anche detto Gabriele Sì, bravi, a posto Ok, allora, comunque Geak qua tutte cose, invitami nella tua e io non ti invito nella mia Ok, invitato, se vuoi puoi andare a vedere, vediamo che ha fatto, immagino nulla Comunque questa sera che vedete, indovinate chi gliel'ha fatto, è il sottoscritto Poi quel ponte l'abbiamo fatto insieme Comunque Per colpa di Geak, noi abbiamo perso sto cavolo di piccone, indovinate chi ha dovuto rifarlo Il sottoscritto Io Ma io, perché io ho fatto il materiale, capi? Allora, Gabriele, c'è la click, ho unilati insieme a te Sì, vabbè, insomma Comunque, anche questi marking jane li ho fatto io Quanto ce l'ho fatto uno? È la prova, guarda Quanto ne hai? Eh, due pezzi Comunque lui l'aveva perso, perché tiene un po' una cosa strana su skybox E invece la mia barra dell'inventare era così grande Infatti Gabri, non ve lo dare perché adesso è grande Eh, appunto, e non te lo darà mai più Finché nel frattempo un secondo Gabri ha perso la scada Questo Questa è la dimostrazione Ecco, appunto Comunque, ragazzi, questo Gilded Steel Pickaxe È tipo una roba che ci vogliono Due giorni di fila A scavare in quella cavolo di zona Comunque Se Gabriele viene nella mia island Island of Junara Andate a vedere poi Che cos'è Allora, qua Ragazzi, qua ho messo tutti i miei risparmi Infatti, se Gabriele viene sotto Li può vedere Allora, questa è la serra È una piccola serra Il cavo Il cavo, vabbè, è un po' una cavolata Però se vuoi, vedilo Qua, ragazzi, ho fatto tutto un collegamento Che collegano tutte le fabbriche del gioco Della mia isola E lo so, io te l'ho detto Li collegano qua Vabbè, poi lo dovrò aggiustare Infatti, già ho un'idea come aggiustarlo L'obiettivo di oggi è migliorare il mio cavo Allora, so già come migliorarlo Questa è casa mia Ti aiuto anch'io Ti prendo i materiali Che cosa Allora Già Allora, già so come fare Allora, ferro Ce l'ho Adesso te li li ho Mi hanno pure Ok Vuoi se mi freghi qualcosa Te li ho messi E rimetti il blocco Allora Allora, Gabrielli 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 Se mi cacci Allora, Gabrielli E Gabrielli Io ti uccido Perché io Ho una strada bella Data da me Ugualmente Dal sotto Scritto Gabrielli Sai che l'isola è mia Posso fare quello che posso Quello che voglio Allora, comunque Comunque Magari se lui non rompe So già come migliorarlo Ragazzi So già come migliorarlo Il cavo Se Gabrielli viene Prima di tutto Fammi fare questo Perché se no Il sottoscritto viene derubato Allora Gabrielli La prima cosa Che devi fare Allarga Poi tutti i blocchi Me li ridai Poi ti pago Sì La pietra Te la puoi tenere Tanto a me Non interessa Allora I blocchi Tanto poi Ci penso io Magari se non mi scavi Tutto Non preoccuparti Ci penso io Al problema Allora Gabrielli Fermo Fermo Perché Eh Questo Già Se è tutto scaricato Porca miseria Io odio Gabrielli Fermo A picconare Oddio Perché Non si vede nulla Perché Gabrielli Ah ok Gabrielli Basta picconare Non picconare tanto Ok Credo di aver collegato Un secondo Ragazzi Ok Ok Allora Gabrielli Non allargare troppo Non allargare troppo Te lo dico io Allora Penso che così Gabrielli Così Penso che possiamo Penso che così No Gabrielli Ti regali I miei blocchi Che avevo Ok Gabrielli Che io devo Registrare Gabrielli Basta Scavare Ti Ciottati quelle mani E leva Quelle mani Umide Da quella minchia Di schermo Che tieni Oh Alleluia Gabrielli Se mi dai Un secondo Zito Muto Muto Zito Ok Ok Questo facciamo Finta Che è Ossidiana Raga Eh Sì È proprio Ossidiana Oh E non ci sono I blocchi Di Ossidiana C'è la crisi Oh Siamo in L'epoca Di coronavirus Questa Si chiamerà L'epoca Del coronavirus Olè Comunque ragazzi Penso che fra un po' Il mio canale Fa un anno Che io Ho iniziato A fare video Perché l'estate Scorsa Ho iniziato Quindi Fra un po' È estate Quindi Fra un po' Il primo video Si vedrà Che è di un anno Evviva Ok Se Gabriele Parla E non si sta Zitto Come Come Me l'hai Aggiustato Ok Aspetta Vengo 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 Basta Che non Mi freghi La roba No Guarda Vediamo Ah Come Me l'hai Aggiustato Come Scusami Ah 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 Giusto Giusto Ah Bravo Bravo Aspetta Magari Veramente Facciamo Come Hai detto Tu Allarghiamo Allora Gabri Se hai un po' Di carbone Gabri Se hai un po' Di carbone Mi fai pure Un favore Perché io So calantissimo Di carbone 211 di carbone Beh buono Io non ne ho per niente Praticamente Sono calante di carbone Perché potete vedere Magari se non mi va in automatica Ecco Ne ho solamente 83 Ne ho Io faccio anche così Perché mi da soddisfazione E fare Fare così Ecco Allora Comunque Ci servirà Molto più carbone Per fare Il pavimento La pavimentazione Comunque ragazzi Tutti Ok Usa la mia workbench Per fare i blocchi Di carbone Ah guardate Cosa dovevo fare Ah Infatti Allora Allora Questo è un po' Un inghippo Allora Ci pensiamo Subito Boba giusta Tutto Ok Penso che così Vada bene Vediamo Come va Sì Va bene Ok Devo fare In questo Modo E facciamo Anche in questo Modo Speriamo che i blocchi Mi bastino Perché se non mi bastano È un po' Un casino Perché anche il ferro Non è che C'è Non tantissimo Comunque ragazzi Dovete sapere Che io sono Assessionato Dal 23 A 7 Cioè Mi ha Contagiato Pure a me SF Infatti Subito Quando ho 23 Dico Se ho 17 Subito Devo dirlo Allora Non lo so Che è successo Perché Gabri Oddio Oddio Ragazzi Ok Gabri C'era Un Un collega Di Di Robespierre Comunque Dettagli È Un collega Sì È Stava La telefonata Come si chiama? Ah Ma tu dove sei? Sono nel mio cavo Scusa Cioè Sto a costruire Il cavo Allora Non ci ho visto Gabri Gabri Mi stai fottendo Il ferro Vado E vabbè Però Scusami Che Io sono Calante Aspetta Te ne do Due Eh Mamma mia Qua Oh Che volgari Te ne do Due Tieni Prendili Ma non è il giardano No No Prendite l'uguale Magari se non mi hai bucato Perché qua ragazzi Dove vedete Potete vedere Una groviera Letteralmente Una groviera Questo Allora Fammi Le vale Allora Gabri C'è Gli hai blocchi Di Di Coal Che Gabri Hai buttato La tua Iron axe La era Su una delle piattaformine Prendila Gabri Prendila Ti devo ficcare Nel sedere No Gabri È caduta Vaffan Cala E vabbè Ragazzi Se troverò Un altro Un altro Altro Ferro cristallizzato Glielo rifarò Però Ma non è colpa mia Perché hai messo Gli stonecutter Scusami Gabri Oh Ma basta Buccherellare Dammi Dammi Ridammi Lo stonecutter Gabri Ridammi Lo stonecutter Vieni Sì Ci ho Buggato Il personaggio So Sì Bellissimo Gabri Basta Mettere La roba Gabri Basta Ti le ho I permessi Basta No No Non ti ho Detto Devi fare I blocchi Di carbone Porca Me l'ha Fatto Buttare Pure Uno Non ti ho Detto Di fare I brick Ma Scusa Non Ho capito Qualcos'altro No E poi Qua serve Un botto Di carbone Per far Sto cavolo Di cavolo Ma Ti Che ne Servo Eh Un botto Gabri Mi hai pure Mi hai pure Tappato La cosa Che cosa Eh La La cassa La cassa Ma dove Qua Ma Quello Una cassa Sì Guarda Guarda All'interno Ma io Stavo Bucando I buchi E Mi sa Che Che Hai Tappato Il Buco Sbagliato Eh Io Sono Tappato I buchi In casa Tua Perché Nel Sbaglio Ho Bucato E Magari Stai Attento La prossima Volta Perché La Entrano Tutte Le Risorse Della Mia Base Comunque Questa E La Pavimentazione Ti Metterò Tre Mesi Per Dettagli Ma Come Non Te Accorgere Di Cosa Eh Per Chiudere Il Bucco Del Cavolo Ho Sato La Terra Di Qua Ah Pezzo Di Sedere Io Penso Che L'avevo Fatto Di E Vabbè Che Cosa Vuol Dire Fino Ad Allora Ancora Cado Dentro Comunque La Mia Farm Di Carbone E Tipo La Roba Più Lenta Del Mondo Di Bloc Dammi Poi Ti Do I Soldi Non Proprio Proprio Magari Gabri Magari Qui Magari Qua Vieni Vieni Ho il blocco Aspetta Fammi Gli togli La mano Ok Guarda Come Mi Rirubo Veloce No Gabri Per ora Non Darmene Altri Gabri Non Darmene Altri Poi Vediamo Se Me Servono Altri Però Fino Ad Allora Allora Quelli Che Avanzano Te Vieni Stanno Sopra Stanno Bellino Perché Do Vuoi fare Un pochino Lungo Un cavo Immerso Dove Grandissimo Fino Alla fine Dell'isola Sì Vabbè Però Cioè Quanti materiali Servono Vabbè Il ferro A me Non è Tanto Un problema Perché Ne ho Pure 500 Comun Ragazzi Qua C'era La Zona Lo Sai Quanto Ne ho Io Furia Di Scavare Porca Miseria Che Io Mi Stavo Suicidando Il problema Ficarli Nell'industrial Smelter Qua Devo fare Un altro Sistemino Devo fare Non ci vuole Niente Aspetta Quello Non mi devi Fregare L'industrial Smelter Se no Ti ficco Nella Testa Di Tua madre In carriola Gabriele Comunque La tua Serra Manca Dei vetri Come Manca Ah Sopra Dici No Qua Ah Si Ho Bucato Io Per Sbaglio Comunque Produce Molto Perché Che Pezzo Di Giulio Scusa Perché Scusa Perché Che Cosa Ho Fatto Scusa Gabriele La E Work In Progress No 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 Oh 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 Dovevo fare il magazzino Poi Mi sono arreso Perché ci voleva mezz'ora Per fare i brick Tutto Vai Rompiamo tutto No No Gabri Ti da voi permessi Non mi ci vuole nulla Mi ci vogliono due click Va bene Va bene Allora Qua faccio Nel frattempo Faccio Il nuovo impianto Faccio E qua Fammi chiudere Ecco A posto Adesso Non si sentirà Proprio più Nessuno Gabri Ti ho sentito Rompe Gabri Rimetti Il conveyor Ed ecco E quello Il problema Tu dammeli Ridammelo Ridammi Il conveyor Non ce l'ho No Gabri Ce l'hai So che ce l'hai Ah no Ce l'ho io No E poi Ne avevo 10 Vai Comunque ragazzi Questo è un po' Il sistemino Un po' Nuovo Ed è caduto Una cipolla Devo perfezionare Qua Ed è caduto Di sotto Pezzo Pezzo di cuglio Che ti devo dire Che già questo è sollente Come la morte Ma pezzo di cuglio Ma pezzo di cuglio Questa arrivano qua Comunque Se ti interessa Ma io ti denuncio Per scamming Ne ho tre E dammele Pezzo di cuglio E una l'ho mangiata E una l'ho mangiata La fangala E mangiata La serie Rimuoviamo le prove Gabri sei un pezzo di cuglio Che è successo? E perché metti al contrario I cavolo di cosi Di conveyor No Gabri fermo Fermo lì Ti devi sta fermo Da sta zona Gabri ma io Da quando tutte si urlano Non capisco se siamo Mi stiamo ancora facendo il video No stiamo facendo il video Sto registrando No Vado a rubare No Gabri Fermo Fermo No vabbè basta Mi stiamo portando il conveyor Off Basta Dai No 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 Va bene scusa Mi ripeti Questa roba la dovevo fare sotto terra Però la prossima volta No Gabri E qua l'orologio Dice che devo fare allenamento E già facendo allenamento Facendo il video Ehi porca mia Brucio più calorie a urlare contro di te Ma che è stata cagata Perché che cagata è Questo è il mio bunker Questo Comunque prima ragazzi qua Arrivavano le cose qua Vattene rio Vattene rio Perché scusa Il mio bunker Vai Ma dove sta scritto E' l'isola mia Ma cosa vuol dire Che cosa vuol dire Vuol dire Che io posso fare questo Mettimi nella tua isola Che cavolo stai Mettimi nella tua isola Gabri ho chiuso la telefona Te la faccio a chiedere Messo E qua fammi roba No Sì ti ho messo Leghi Nella bussola Allora Io qua inizio a mettere Le casse E mo Già dovrò Mettermi A fare i sistemi Di sicurezza Tipo come il parkour Mi so Che sono una persona Malefica Devo trovare Il materiale Più duro E mettercelo E farci Il parkour No Che Stai per messi Anche io te li ho dati per messi Te Te li ho messi Quanto Ancora non ho messo niente Pensi che so scemo Pensi che sono nato ieri Vai Scucciamo Dai C'è l'immagine Degli alieni No Gabri Gabri ti caccio Ti caccio Ok Mi basta un click Comunque ragazzi Ho fatto Sto marking gen Ho fatto Perché devo Oltre che sono Calantissimo Di carbone E ho messo Del loro affare Perché Mi serve E' caduto No Gabri ti devi ripetere Questa scena Minuto 21 E' indovina che cos'era E' Indovina che cos'era Doro E' Mi ricordo Mi ricordo una vecchia serie Ragazzi Per chi segue Surreal Power Mi ricordo una vecchia serie La modcraft mi pare che si chiamava Quelli si buttavano Ragazzi andatela a rivedere Perché Perché scusa Ma scusa Che hai fatto qui Scusa Ma che stai facendo Pezzo di cuglio Questo è il cavo mio Aspetta Lo sai che faccio adesso Non denunciare Gabri ti denuncio Per cosa E facciamo Così Eh La manisciera per gli uomo Gabri Non mi ricordo più Per l'uscita Quelli sto bucando tutto Ok Ti ho bucato Ti ho bucato Ma come Che cavolo sta facendo Sono i più fastidiosi Da rompere Eh vabbè Qua si sente Non si sente Di svegliare Ma No ragazzi Mi ho messi Mi ho messi la metà che avevo E qua E qua gente che chiama Gente che squilla Tutto Tutto rotto Ma scusa Sì però mi chiedi mattoni Scusa Sì prenditi Sì prenditi Il tanto tengo la forma Prendimi Poi rimanendo il video Poi rimanendo il video Sì prenditi Sto ancora Rompe Ah Adesso facciamo così Gabri Prima che fai qualcosa Posso fare No Gabri No Gabri Rientra Gabri fammi rientrare Aspetta però I mattoni Me li riprendo No mi fai rientrare Capri fammi rientrare Un secondo Aspetta Ecco Jack Guarda Non ci metto niente Eh signore No No Non mi fai Voi a caccare Vai Via No Sono bloccato Aspetta Aspetta No Io ti sono bloccato Aiuto Godo E adesso rimarrai Nella trappola Letale Muah Ah Sì Aspetta Gabri Mi è venuta un'idea Zitto Fermo Gabri Fermo Fermo No aspetta Fermo Gabri Fermo 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 Gabri Fermo Esci da Quella trappola No Zitto Fermo Devo fare Sta cosa Ma il fuoco Di supermano No aspetta No Non Devo No Gabri Guardami Gabri Guardami No zitto Fermo Fermo Gabri Fermo Lo devo fare Togliti da là Prova a cadere Buttati dall'isola Fai come ti dico No Buttati dall'isola Nel senso Buttati Ah vabbè Ci penso Oh no No aspetta Aspetta Gabri Devo perfezionare La mia idea Penso che Molti Molti ragazzi A casa Hanno già capito Aspetta Guardami Ho sbagliato No Non ho sbagliato Per niente Togliti Eh spawni lì Infatti sto correggendo E infatti Rimarranno là I giocatori Infatti Rimarranno lì I giocatori Non avendo uscite Gabri Togliti Che siamo qua Ci ficchiamo Tutte e due E vabbè Te la tappo Fermo Fermo Sto facendo La mia trappola mortale Allora Questa è a prova Di giocatore Questa cosa Questa cosa È a prova Gabri Te le portati Nella tua Gabri Te le portati Nella tua Aspetta Invita adesso Invito tutti I giocatori Del server Sto invitando Tutti i giocatori E poi Ti libererò Scusa Tu stai un po' Nella tua isola Io intanto Invito tutti I giocatori Guardali 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 Gabri Guarda 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 I cretini No Gabri No Gabri Non metter Eh vabbè Io vi tappo Guarda che cosa posso fare È un po' Scusa No dopo Al massimo Allora aspetta Gabri Faccio un piccolo regalo Gabri Faccio un regalo Faccio Boom Vediamo chi lo prende Vediamo chi lo prende Vediamo chi lo prende L'ha preso Giulis Cosa? Il regalo Il 1000 euro Ho regalato Vediamo chi lo prende Fra voi due Vediamo chi lo prende Fra voi due Aspetta Gabri Fermo Fermo Gabri Fermo Vediamo chi lo prende Fra voi due Eh vabbè Sei andato Gabri Ti metto i permessi No Aspetta Ah Perfetto Abbiamo fatto Aspetta Fammi eliminare tutti Gabri Ho per Sbaglio Gabri Ho per Sbaglio Cacciato Scusa Ecco Ti invito Eh scusa Aspetta Risorgiamo Addio Incandescente Il power bank Ragazzi Il power bank Allora Gabri Adesso Togli tutti i giochi Allora Gabri Questa cosa Ok Togli tutto Togli tutto Ok Togliamo Mi dai Una mano Ok Li faccio il buchino Però Questa volta Con i mattoni Tanto c'è La farm Se vai là A vedere Nell'industria Il cesto È pieno Eh Se vai a vedere Sì Guarda Allora c'ho La farm Automatica No in quella L'altra L'altra Quella a casa mia Gabri Quella a casa mia Quella Vado a rubare Togli Ho messo i perlesi Gabri Gabri Guarda qualcosa In casa tua Ce ne sono solo 5 E vabbè Perché Massimo In uno slot Ce ne possono essere Solamente 5 Però La Arrivano Che ti aiuto anch'io Vai vai E che devo fare E che devo fare Una stessa incredibile Oh no Gabri Mi sai il tuo piccolo di ferro No Ah il piccolo di ferro Sì Tanto non mi serve più Ah grazie Grazie Ok Allora Qui è Iron pickaxe E là si sente Dialetti Di tutti i tipi E magari se non finisco Io nella mia stessa trappola Allora Vai rifai Gabri Fai solo il buco Non a bel nulla Ok Ok No Io l'ho L'ho fatto così Perché Non volevo Allora Gabri Vai Vai Faccio Così finiscono il vuoto Poi fai il test Tu poi Poi da cavia Vai cavia Cavia da laboratorio Vabbè ma devi mettere Che quelli andranno Sì Sì Basta Gabri Teletrasportati Nella tua Che metto Ecco Vai Buttati Ecco E dai ma allora Sei proprio scemo Ecco Allora Facciamo un po' Una cosa Prova Di fuggitivo Togliti Gabri Togliti Gabri Togliti Ma sei proprio cretino Vai ti ho rimesso Le piattaformine Adesso Non ti escegli E' qua E' qua Mamma mia Qua Gabri Risali Ah vabbè Basta anche bucare Vai Gabri Buca e ripara Poi Gabri Finisci Vai nella tua Aspetta un secondo Gabri Fermo Fermo Ok Vai vai Un'altra volta Ok a posto E magari se non cadi come uno scemo Vai vai Esci Esci E vabbè Ok Allora Gabri Siamo pronti Allora Gabri Vado a prendere Un secondo Tre pezzettini Di roba Da te Di vetro Mi dai permessi Che prendo solo Tre Quattro Pezzettini Così li possiamo Osservare Cadere Poi te li metto a posto E la nostra trappola Super Gabriele Eh magari sei mancato Nella mia stessa trappola Un secondo Gabri Ma che stai rubando Gabri Sei un pezzo di culio Ok Leva sti blocchi Puzzoni Alziamo un altro po' Fermo Non cadere dall'isola Che se no Gabri togliti 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 Gabri togliti Perché non parli Sei munto per caso Salta se mi senti Non mi sente Perfetto Ragazzi non mi sente Gabri Ragazzi sto video durerà un po' di più Magari se Gabriele si leva Ragazzi prova a richiamarlo Devo rifargli la videochiamata Non mi fa neanche uscire dalla videochiamata Ragazzi Non mi sente più Gabriele Gabri salta se mi senti Togliti Togliti Ok Allora ragazzi Possiamo iniziare la nostra trappola mortale E poi vi rinviteremo tutti Ok cupola creata Ed è finito nell'altra trappola Vabbè passiamo Allora ragazzi Facciamo di nuovo Così Ok Arriverà gente In questo modo E in teoria Dovrebbe cascare Nel buco infernale Dovrebbe La mia trappola Vediamo Dai Definiamo pure Dovrebbero finire Non funziona Perfetto Gabri Perché non mi Non mi senti Non mi fa neanche chiudere la video Vabbè ragazzi Penso che Da Super Gabriele E Jack Che non mi sente Non parla È morto È tutto Ciao ciao